La partecipazione di tre nostri atleti al torneo internazionale di Mannheim, che è considerato un pochino un campionato mondiale Under-18, è motivo di orgoglio e sicuramente sei anni e mezzo fa era impensabile. È stato frutto del lavoro fatto in palestra, è stato frutto degli allenamenti quotidiani che facciamo e di quanto seguiamo i ragazzi non solo tecnicamente, ma in tutti i loro aspetti, i loro componenti che fanno parte della loro crescita. Dobbiamo cercare di farlo diventare non un punto d'arrivo, come potrebbe sembrare, ma un punto di partenza. Per me, che sono a Trento da quasi sette anni, è sicuramente una grandissima soddisfazione questa, come lo sono state altre, come lo sono state le partecipazioni alle finali nazionali, però appunto dobbiamo continuare assolutamente ad andare in palestra ogni giorno con la stessa gioia, con la stessa voglia, con la stessa ambizione. Io sono molto onorato e molto felice di aver potuto assistere a un torneo del genere, un torneo molto importante, un mini mondiale, lo chiamano, proprio perché c'erano nazioni da tutto il mondo e ho potuto vedere e ammirare i migliori talenti miei coetanei e perciò è stato molto istruttivo anche. Io ho avuto la possibilità anche di avere con me due miei compagni di squadra dell'Aquila e è stato molto divertente, è stato anche confortante perché ho avuto comunque la possibilità di integrarmi nel gruppo anche grazie a loro. In un'esperienza del genere si impara sempre tanto. Ogni pallone, ogni situazione in una partita è sempre fondamentale per l'esito finale. Probabilmente questa è la cosa che ho imparato di più. Ogni pallone è importante. Io che ho avuto la possibilità di fare anche gli europei Under-16, visto che ti fa, ho potuto notare che il salto di categoria è molto evidente. Una grandissima esperienza perché ho visto giocatori di tutto il mondo che sono anche ad un altissimo livello. Qua a Trento sicuramente ho migliorato tantissimo la tecnica di tiro, di palleggio e anche a Mannheim ho imparato a capire il gioco e a vedere i miei compagni di squadra sul campo. Ho partecipato a Mannheim nel 2014. Mi ricordo che è semplicemente l'esperienza più bella della mia vita. Il percorso, il sacrificio, l'avventura che ci ha portato in finale a giocarcela contro gli Stati Uniti e poi a vincerla è stato qualcosa di indescrivibile che non dimenticherò mai.